Cari telespettatori siamo qui in diretta da Pesaro per fare una promozione di questo grande spettacolo che sarà a Pesaro. Ma chi è sto signore? Ma chi è? Ma chi è questo? Ma scusate devo fare lo spot un attimo solo. E' sentinelli? Si ma signore un attimo. Ma non è sentinelli, vedi che non c'ha quei baffetti da deficiente. No sono io, sono io, non si preoccupi. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è da voi? Ho tolto i baffi un attimo. E' molto vecchio, è meglio che li rimetti anche la barba. La barba adesso che farà crescere. Senta, sentinelli. Ehi dica, sto facendo lo spot un attimo. Cosa fate? Facciamo lo spot, facciamo lo spot, siamo venerdì, siamo a Pesaro, venerdì 25, siamo a fare Cesare Augusto. Ma dove siete? A Loretto, scusi un attimo. A Loretto. A Pesaro, io vado solo a Rossini. Ma cosa dici? Al massimo allo sperimentale, a Loretto. Perché è un film, c'è uno spettacolo e poi dopo alla fine dello spettacolo ti diamo un film, la scoperta del secolo. Quindi sarebbe un telo cinematografico. Ma potevate farlo al Duse, c'è più il Duse. Ma che Duse? Il nuovo Fiore. Ah, il Fiore, c'è più. No, no. Al Bambi, vi ho delle vetrini miei. Assolutamente no, assolutamente no. Comunque va bene, ci vediamo venerdì allora. Venite anche voi, venite. Se ci passate a prendere con l'ambulanza, noi veniamo. Fa molto ridere però. Fa molto ridere. Molto. Sempre ridere. Fa ridere. Sempre divertiti. Sempre divertiti. Grazie, grazie. Mi matacchio. Va bene, grazie, grazie. Va bene, grazie. Faccia finire per favore. Amici, siamo a Pesaro. Divertiti.